Probabilmente la villa comunale di Chiauci non è mai stata così bella. Per la gioia dei più piccoli, giochi sono stati rimessi al nuovo e in sicurezza. L'idea di abbellire e rendere pienamente fruibile questa area alle porte del paese è stata di Giuseppe Colabuono, un ebanista che vive a Roma, rimasto molto legato al suo paese di origine. Io sono chiaucese, chiaramente, e ci tengo a questo paese. Ho chiesto il permesso al sindaco per elaborare questo progettino e ho visto che qui c'era molto da fare e in questo momento mi sono praticamente dedicato con anche l'ausilio e l'aiuto dei collaboratori che si sono prestati a darmi una mano e ho realizzato queste opere. È un lavoro molto complicato, per esempio sono stati dei pezzi che sono stati fatti l'anno scorso, per esempio il girello, che è un materiale abbastanza nobile, quello è Corian, che nei parchi giochi non esiste proprio perché è molto costoso. Invece quell'altro gioco è praticamente Plessiglass. Adesso abbiamo messo tutto in sicurezza, abbiamo messo i dovuti rinforzi, quello che servivano, i bambini qui possono giocare liberamente senza nessun problema. Il gesto del signor Colabuono è stato molto apprezzato dalla comunità chiaucese. Vedere i bambini così felici è una cosa che non apprezzo. Il sindaco Alessandro Di Leonardo ha ringraziato il suo concittadino donandogli una targa ricordo. Abbiamo giocato molto su questo volontariato, che io non mi stancherò mai di ringraziarlo, il nostro concittadino Colabuono Giuseppe, il quale vive a Roma, ma è sempre presente a Chiauci. Si è reso disponibile ad affrontare questo lavoro. Io come comune ho avuto la fortuna di avere due o tre borse lavoro che gli ho affiancato, insomma per certi versi lo hanno aiutato per quel poco che si poteva. Noi lavoriamo tutto in economia, insomma quello che si fa si fa in economia, sapete come siamo messi noi comuni. E voglio dire, questa villetta che poi è un parco giochi per bimbi, non ha mai avuto una manutenzione di questo tipo. Sono stati ristrutturati dei giochini, messi in sicurezza lealtalene, insomma abbiamo fatto una sorta di bonifica vera e propria, nonché la messa in sicurezza, che era urgente e necessaria per mettere in sicurezza i bambini. A margine della cerimonia inaugurale, Di Leonardo ha annunciato l'intenzione di proporre al Consiglio Comunale di intitolare la villa comunale a Carmine di Vincenzo, già primo cittadino di Chiauci, in segno di riconoscenza per i suoi studi che hanno permesso di riscoprire e tramandare la storia e le tradizioni locali.